Il 4 marzo? Ho già vent'anni, devo sposarmi! Sì, ma chi? E ora le news... L'uomo più ricco del mondo... RISCHIA LA MORTE! Il suo ultimo desiderio è trovare moglie. Mio! Quale sarà la stanza? Andrò a chiedere. Salve! Sa! Mi scusi, dov'è la stanza dell'uomo più ricco del mondo? Stanza recente! Grazie! Mi dica... Non la conosco! Volevo solo fare una domanda... Mi sposi! Ma questa non è una domanda! Ma è proprio quello che farò io! Eccellente, allora hai deciso! Ma domani ci sposeremo! E' per l'eredità dei beni! Non è per nessuno! Non ho per nessuno! Sono i miei soldi! Ma amore, è quello che conta di più! Bene, allora avvisa la stampa! Mi va bene tutto ma... Incompio! Che cosa? Dovrei darmi quello che voglio! Però tu dovrai filmare il testamento con me! A fare fatta! Bene, allora io vado! E preparo tutto, eh! Sempre se vivrai abbastanza! Invitato l'astardo! Scusa tesoro! Non volevo! Lo spero, cara! E ora una noticia mondiale! L'uomo più ricco del mondo muore! Ah, ho i suoi soldi finalmente! E non ha avuto me! Vi prego! Lasciatemi l'ultima volta con lui! Era ora! Mi piace era ora! Eh? Mio marito voleva che prendessi... La sua morte con serenità! E una sua volontà! Scusa! E' mia! Ahahahah! Bastardo!